Il Movimento 5 Stelle invece sottolinea le conseguenze economiche positive che potrebbero arrivare grazie alle buone pratiche nel settore dei rifiuti. Una filiera dei rifiuti ottimale con il riciclo e il recupero di materia dà 10 volte più occupazione rispetto a discariche e inceneritori e questi dati sono del Centro Nazionale di Ricerca e quindi ormai non sono dati del Movimento 5 Stelle. Nei prossimi giorni verranno scelti anche i collaboratori della Commissione, individuati tra i maggiori esperti del settore e si faranno ipotesi di budget. Vista la situazione allarmante nel campo dei rifiuti, sottolineata già durante la scorsa legislatura, è probabile che si tratterà di cifre importanti.